Un palleggio, resta il giro di sport, il talento non manca da tutto questo primo. Una tripla, assegno di Scott. C4, Carter indice lo scarico per Scott, ottima gestione di questo contropiede. 7, 9, 7, 3, meno 6, 2,33 ancora da giocare. Scott in arresto e tiro, bella parabola, buon movimento per andare al tiro. Scott si attacca con secchio, prende completamente la linea di fondo. Il pallone arriva Scott tagliando fuori tutti. Il numero 2 parte in palleggio sul lato sinistro. Si propone carte per un gioco del compagno. Il compagno Aoi Scott lascia letteralmente sul posto l'avversario, va a mettere in sottomano dal lato sinistro il primo vantaggio per la formazione principale. Il numero 3 parte in palleggio sul posto l'avversario. Questa è il numero 3 parte in permanenza principale. Il numero 3 parte in panni con porto con prende.